C'è tanta politica nelle prime pagine dei giornali che troveremo domani in edicola, cominciamo il mattino di Puglia e Basilicata, succede solo in Italia la corsa a Bruxelles dei leader di partito che non ha, è uguali in Europa e di seguito tutti i nomi dei capilista che si presenteranno alle versioni dell'8 e del 9 giugno.